Bisogna informare il Paese e far sapere agli italiani. Noi siamo un Paese di confine, stragi, eversione, uccisione di magistrati per bene. Hanno caratterizzato gli ultimi 20-30 anni in storia di questo Paese, ma nessuno ci ha mai detto il vero perché. Bene, adesso lo dice chiaramente un magistrato che ha pagato un prezzo scontrandosi contro i poteri forti. Falcone e Borsellino sono morti perché partendo dalla ricostruzione della cupola mafiosa, attraverso dati internazionali, meccanismi e analisi finanziarie, attraverso le dichiarazioni non orali ma non registrate di buscetta, attraverso un'analisi complessa erano arrivati a individuare un grumo deviato, una grande organizzazione criminale internazionale, una realtà associativa sovranazionale. Avevano costruito la fattispecie del 416 bis, avevano chiesto e ottenuto la direzione nazionale antimafia, furono uccisi perché quel livello di contrapposizione dello Stato a queste derive e oligarchie sovranazionali non era compatibile con il progetto che doveva controllare gli stati mediterranei e l'Italia. Ma questo non ve l'hanno detto, ancora oggi vi raccontano la trattativa Stato mafia. Voi immaginatevi una mafia che tratta dopo aver fatto una strage, la prima strage nella sua storia perché la mafia non agiva per stragi e qualcuno avrebbe potuto uccidere in qualunque momento perché era un uomo coraggioso che andava a spasso da solo, immaginatevi questa mafia che tratta per avere il 41 bis, c'è un trattamento meno sfavorevole a livello carcerario e che poi uccide Borsellino perché la trattativa non va a buon fine. Ma ha un senso questa sciocchezza clamorosa. La mafia fu incaricata di far fuori Borsellino, Falcone, la direzione che portava verso una contrapposizione tra i trami internazionali e il Stato italiano e in corso d'opera pretese una merceda. Ha stato d'avanzamento lavori, così è logico, così è coerente, non lo dice solo Paolo Ferraro. L'ha detto Veltroni, l'ha detto Veltroni in una trasmissione televisiva del 2010 parlando della entità che poi non è una cosa magica. Sono concreti poteri militari, concreti poteri oligarchi finanziari, concrete strategie che vedono insieme associazioni criminali di base e altre associazioni ugualmente criminali che io chiamo tranquillamente e affettosamente massonerie, poteri forti collegati tra loro, caste che aderiscono a un progetto di dominio che poi si è collocato nel nostro Paese come voi avete visto tutti quanti. quindi la prima cosa che occorre sapere è che questo Paese, oggetto di eversioni e strategie terroristiche, di eversione non convenzionale, scalando le caste, deve sapere, deve essere informato, queste edizioni servono a informare per la prima volta il Paese italiano della verità su quello che è successo negli ultimi trent'anni, c'è un altro aspetto, il Paese deve essere informato e deve sapere, questo è il Paese dei 9 mila bambini spariti, questo è il Paese dove una caserma di Ascoli Piceno vede orge e attività sessuali estreme, dove il magistrato Paolo Ferraro viene sentito interrogato a Teramo per tre ore, dove il giudice che si occupava delle vicende e l'ufficiale IPG che sentì il dottor Ferraro subiscono complessivamente tre o quattro attentati e il Paese viene tenuto all'oscuro. Questo è lo stesso Paese dove c'è il Forteto, una comunità giovanile sul modulo della Jugendstadt, dove in realtà si pratica l'ognosticismo a sfondo, badate a sfondo, siamo esseri umani, delinquenti normali, satanista, si educa alle violenze sessuali ripetute di gruppo, si educa al valore dell'omosessualità e non dell'eterosessualità e questa comunità viene, virgolette, sponsorizzata e appoggiata per 40 anni da intellettuali di sinistra, finanziata da banche legate ai gruppi finanziari fondamentali che fanno capo sempre a certe aree politiche, vi sono due psichiatri titolari di cattedre che giustificano l'esperienza di questa comunità, addirittura fanno fare l'esame sostituendo all'esame la indicazione o lo studio di come è organizzata questa comunità e tutto viene nascosto per 40 anni nonostante che il titolare della comunità viene più volte condannato, l'Italia viene condannata dalla Corte di Giustizia Europea perché nasconde e non interviene e allora le chiavi di lettura individuali dove la deviazione, la violenza sessuale, la pedofilia, la efebbofilia che è ben altro e ancora di peggio perché c'è un'idea e una strategia devono poter uscire fuori, basta di raccontare sciocchezze, siamo il paese dove un Papa si dimette e un altro Papa Paolo VI aveva parlato del fumo di Satana, questo è il linguaggio curiale, io sono un laico, parlo di fatti, cose e prove, c'è stata una strategia eversiva, sotterranea che ha portato sistemi di antivalori che quella che ha portato all'omicidio di Melania Rea e vi hanno raccontato sciocchezze perché quella svastica è rimasta sul corpo di quella donna, i gruppi di cui parla il dottor Ferrano sono gruppi con un'ideologia nazi com legati ad apparati, ahimè, signori di sinistra, che portano direttamente a magistrali di sinistra e a uomini politici di sinistra, questa strategia serviva a costruire una sorta di casta golpista o casta permanentemente assestata sul controllo della democrazia svuotandola. Tutto questo non è inventato, è oggetto di prova, è oggetto di prova anche attraverso le denunce di chi vi parla che ha portato addirittura registrazioni audio di ciò che accade in una setta dentro la cecchignola, quartiere civile militare, dove ci stanno anche vertici dell'esercito. Quindi il Paese non può essere tenuto all'oscuro, non può rifiutarsi di sapere che eccidi di donne, eccidi di bambini, pratiche militari hanno a che fare con questo progetto deviato e con questa deriva che sta distruggendo l'Italia. E poi c'è un terzo elemento, il Paese deve sapere. Il Paese deve sapere che questa battaglia apparente fra sinistra, destra e centro, tra chi è per i diritti e per il futuro glorioso dell'Italia, chi è per la nazione e per il liberismo, chi è per il centro e una strategia oligarchico-finanziaria, il dibattito tra i poli, tra Bersani, Monti e Berlusconi è una ridicola pagliacciata. La via massonico nazionale, la via massonico internazionale, le massonerie che si attestano intorno a una concezione piduista, quelle che si spostano sulla concezione che porta direttamente alla falange e cioè a quello che ha inscenato in il nostro Paese le attività criminali più pericolose e le ha rivendicate, appartene allo stesso piattaforma, allo stesso plafond. Sono differenze di colore, ma colore nel senso non cromatico, colore dal punto di vista dell'intensità del calore. Ma l'idea è una sola, progetto, dominio, caste, controllo delle economie nazionali e ovviamente rispondere alla crisi del sistema aumentando il tasso di controllo e dominio della società. Dovete saperlo, vi stanno prendendo in giro. L'ultima presa in giro è il quarto polo, quello rosso stinto, arancione, ingroia, quello il quale vanda giudizio per la strage di capaci, riperpetuando lo schema fallace, indotto, della trattativa Stato-mafia due mesi dopo che Paolo Ferraro, chi vi parla, ha fatto una conferenza in cui ha spiegato la diversa chiave di lettura di quello che accade in questo Paese. Ed è lo stesso che poi si allea con tutta una serie di soggetti e partitini della ormai morta moralmente sinistra. La verità? La sinistra è stata scalata, con una strategia di stampo esoterico infiltrato, si è tramutata nell'opposto da sé i suoi valori. La destra, che era da sempre irretita e controllata in parte, che faceva parte anche di una destra diversiva, è stata, virgolette, affiancata. E se no, una moglie di un personaggio di sinistra non gestirebbe gli archivi di Gelli. Sveglia! Dobbiamo subito ribaltare la differenza tra sinistra e destra verso il basso e crea una contrapposizione diretta con i poteri forti. Di qui chi sta dalla parte dell'uomo, dello Stato sociale, di un'economia a dimensione d'uomo, di una moneta che non indebita, non impoverisce. Di lì casta e gli archie poteri forti e chi tenta disperatamente di rimanere in sella, mentre la crisi finale del sistema comunque andrà avanti.